Nel momento in cui veniva presa la decisione del ritiro definitivo delle truppe occidentali dal Paese, esisteva la consapevolezza del rischio di una ripresa dell'offensiva talebana, favorita dal clima estivo, volta ad acquisire un vantaggio militare sul terreno in vista del riavvio dei dialoghi intra-afghani sospesi da tempo a Doha. Ciononostante sia la Nato che la maggior parte degli analisti internazionali stimavano che la campagna militare talebana sarebbe stata contrastata con una certa efficacia dalle forze di sicurezza afghane, numericamente superiori, certamente ben equipaggiate e che avevano dimostrato a più riprese negli ultimi anni la loro capacità operativa di contrastare i talebani. I fatti avvenuti ci dicono che le cose sul campo sono andate purtroppo in maniera radicalmente diversa. Da un lato abbiamo assistito ad una rapida avanzata talebana, frutto di una campagna militare certamente pianificata in dettaglio, con obiettivi intermedi di alta valenza militare come il controllo delle frontiere, la conquista dei principali capoluoghi di provincia e l'interdizione delle vie di comunicazione verso la capitale Kabul, raggiunta infine lo scorso 14 agosto. Dall'altro, inaspettata o quantomeno non prevedibile nei modi in cui si è determinata, è stata la scarsa se non nulla resistenza posta dalle forze di difesa e sicurezza afghane, che in alcuni casi non hanno neanche impegnato in combattimento gli avversari, scegliendo di fuggire oltre confine o di arrendersi ai talebani, abbandonando alla merce di questi ultimi mezzi di equipaggiamenti.